15.000 metri quadrati di serre ad alta tecnologia di un'azienda leader a livello internazionale nella produzione di fiori sono andati completamente distrutti a seguito di un incendio di origine dolosa sviluppatosi all'interno dell'impianto serricolo che si trova in contrada a Bosco Rinelli, nel territorio del comune di Acate. Ingenti i danni all'azienda, di oltre 60.000 metri quadrati, dedita alla produzione di chiresantemi. L'incendio ha coinvolto e danneggiato una parte del reticolato posto a produzione dei fiori, simile alle reti frangivento, e ha completamente distrutto l'impianto elettrico. Dopo le attività di spegnimento effettuate dai vigili del fuoco, personale del commissariato di polizia di Vittoria è avviato immediatamente le indagini. Nel corso della notte di sabato sono state eseguite perquisizioni domiciliari, presso gli uffici del commissariato sono stati sentiti diversi soggetti. La polizia scientifica ha lavorato sui luoghi dell'incendio per tutta la giornata di domenica, effettuando rilevi tecnici. Circa i motivi dell'atto incendiario sono diverse attualmente, l'ipotesi al vaglio degli inquirenti.